Il Tribunale Zverskoi di Moskia ha deciso di rinviare al 15 maggio prossimo la sentenza contro il principale oppositore russo Alexei Navalny, accusato di aver organizzato delle manifestazioni disperse dalla polizia due giorni prima dell'investitura di Vladimir Putin al quarto mandato da presidente. Il Tribunale ha deciso il rinvio per poter ascoltare la testimonianza di due polizioni. Quello che succede in Tribunale non ha nulla a che fare con il verdetto, il verdetto è già stato deciso, hanno solo bisogno di esplicare qualche formalità collegata al fatto che abbiamo ovviamente presentato un nuovo ricorso alla Corte Europea dei diritti umani e ogni volta che andiamo alla Corte Europea ci danno ragione. Navalny è stato arrestato il 5 maggio con più di 1500 manifestanti, due i capi d'accusa che gli sono contestati, organizzazione di manifestazione non autorizzata e disobbedienza alle forze dell'ordine. Rischia un mese di prigione per ciascuna accusa.